Fruintichiovenere Buonasera Come ti chiami? Vabbè allora ditelo Come ti chiami? Ma non potete a fine sanato tutti quelli che mi dino non è giusto Eh è giusto tutto dai Come ti chiami? Non mi ricordo più Non si ricorda come si chiama? Bene, va bene, cosa fai nella vita? Incanto Incanta Incanti i serpenti O gli uomini, boh chi lo sa Gli uomini E' un'incantatrice di uomini ragazzi, questo è un nuovo mestiere E come lo vorresti l'uomo ideale tu? Uno non basta Ah uno non basta, uno alla volta però o no? Ma non lo so, non lo so Giorni alterni, ho capito Eeeh Ma deve avere una caratteristica particolare questo uomo Si, l'importante è che non sia di Perugia Dopodiché tutto va bene Eeeh E cosa hanno i Perugini che sono così bravi? L'Italia è buona tutta eh? Parliamole Parliamole Vabbè, ascolta Io ti consegno questo messaggio E spero questo messaggio Se arriva la Perugia Guarda Vabbè Vabbè Ok Vabbè Vabbè Vabbè